Nonostante due pali, nonostante due traverse, nonostante il gol annullato, nonostante i gufi che erano lì e che aspettavano alla fine la sconfitta, Milan 2, Parma 2. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Triburo Sonera, amici amici del Marietto, buonasera e bentornati all'appuntamento del post Milan-Parma. Ragazzi, se non mi saltano le coronari oggi, veramente non lo so quando. Oggi è una partita impressionante, sin dall'inizio è cominciata con l'infortunio di Gabbia, dopo 4 minuti ho detto a posto siamo. Invece è entrato Calulu e vi dico, a parte il gol che comunque è nato anche da un'azione sulla fascia dove stava difendendo lui su Gervinio, che alla fine è riuscito a mettere in mezzo e fare il gol Hernani, per il resto ho visto un Calulu che ha avuto molta, molta personalità, vi devo dire la verità, mi è piaciuto davvero, davvero tanto e in quel ruolo di centrale che comunque non è facile, ragazzi avevamo fuori, ricordiamoci sempre, Simon Kier, quindi c'è un pezzo della difesa veramente si notava anche poi subito con l'infortunio di Gabbia. E nonostante tutto ha retto bene. Il Milan ci ha provato subito a reagire dopo l'1-0 così a freddo del Parma, tanto è vero che sull'azione Rebic, Teornandis, una bellissima azione, mette in mezzo di Tacco Diaz, pam, entra Castillejo e pareggiano a 1. Già eravamo saltati qua dal divano con mio figlio e invece no, alla fine annullato, fuori gioco per mezza unghia del piede in fuori gioco. Vabbè, vabbè, lasciamo perdere, non tergiversiamo con polemiche. Al 39esimo i due pali di colpo, c'è l'azione veramente che mi sembrava tipo Frenko. Palo, doppio palo, c'è un planer, tir, boom, pam, pam, niente. Alla fine tira Diaz, traversa, o no, era quasi verso l'incrocio. Ritorna la palla indietro, arriva Cialanoglu, boom, traversa, e ho detto, eh che cazzo. Cioè, veramente impressionante la sfiga e al 45esimo un altro palo ancora di Cialanoglu. Cioè, ricomincia il secondo tempo, cinquantesimo, traversa di Cialanoglu. L'ho detto, mica stasera si sono messi lì, gufolandia, si sono messi sulla traversa del Milan, eh che cazzo. Cioè, veramente non entra proprio niente. E poi, neanche dopo cinque minuti, cross dalla destra di Hernani e di testa arriva come un falco proprio Kurtic, che smanaccia un po' Donnarumma, però sul palo, ma la palla entra. 2-0, ho detto, mamma mia, ricominciamo a vedere gli incubi stile Lille, stile Verona. E invece questo Milan ormai, cioè, non ci deve neanche più sorprendere in questi suoi recuperi. Una partita davvero allucinante, tanto che al 57esimo subito c'è stato su un corner di Cialanoglu questo bellissimo intervento di testa di Teo Hernández che ha riacceso la speranza e la speranza si riapre completamente al novantesimo, proprio su una bomba di Teo Hernández che mette lì sull'angolino sinistro di Sepe il 2-2 che rimette in sesto una partita che comunque il Milan non meritava assolutamente di perdere, perché sui numeri ragazzi veramente abbiamo avuto una sfiga stasera, cioè, mi sembrava proprio che c'erano gli iettatori e che cazzo, cioè, non è possibile. In ogni caso, manteniamo la vetta della classifica sempre a 3 punti, è vero, non è più 5, però siamo sempre a più 3, è stata una partita difficilissima anche per rismuovere la matassa. Ricordiamoci che abbiamo avuto subito dall'inizio l'infortunio di gambe, quindi siamo stati subito condizionati a cambiare anche un certo modo di fare, perché Calulo era l'esordio in Serie A, quindi è stata una partita dura, è stata una partita dura, complicata, comunque faccio i miei complimenti ai ragazzi che sono riusciti a riprenderla, perché veramente stasera sembrava un film di Dario Argento, il thriller, e non osavo immaginare una sconfitta anche già da parte dei gufacci, invece ciappatela nel bis del cul, quindi un Milan che pareggia, rimane in testa la classifica, diciamo che migliori in campo in questa sera direi totalmente Teo Hernandez, Teo Hernandez è stato colui che ha ribaltato completamente la partita, sulla fascia è stato veramente un treno, Teo il migliore del Milan, assolutamente. peggiore in campo del Milan, non lo so, perché anche quando ha forse Brian Diaz, ma neanche, cioè non è che io vedo un giocatore che abbia giocato male oggi, perché a parte i due errori difensivi che ci sono stati evidenti, però ricordiamo che con una difesa in emergenza il Milan in questo momento quello che sta facendo è già un miracolo, in ogni caso anche e per l'ennesima partita il Milan A non ha perso, B ha fatto ancora due gol e quindi siamo alla tredicesima partita o quattordicesima, mi ricordo, con due gol di fila nelle ultime trenta partite che ha sempre segnato, cioè anche di più, forse quaranta partite, adesso non ho dati alla mano, però un Milan che continua a stupire, nonostante queste difficoltà anche di questi svantaggi, che già non è la prima volta che passiamo in svantaggio in questo modo, però stasera secondo me c'è l'attenuante veramente di una sfiga impressionante, cioè stasera non possiamo dire nulla ai ragazzi perché hanno fatto il possibile e l'impossibile contro veramente lì una cabala che si era messa contro, sembrava che c'era la morte nera dice no, voi il gol non lo fate, quindi io in ogni caso dico grazie ai ragazzi, è stata un'ottima prestazione e ripeto, nonostante i due errori, quindi andiamo avanti così anche perché fra tre giorni c'è subito un altro match importante proprio contro il Genoa che oggi ha perso in casa 3-1 con la Juventus, quindi adesso dobbiamo cercare di tirare un po' subito a Genova per fare punteggio pieno, anche perché oggi è andata così, l'importante è che poi alla fine nonostante tutto non abbiamo perso e quindi Milan-Parma 2-2, ragazzi ci vediamo domani per nuove notizie, vediamo se analizziamo un po' di più questa partita, però soprattutto ricordatevi che alla sera alle 9 e mezza ci sarà qui sul mio canale il Marietto Milanista Super Live con ospiti speciali e domani ne parliamo un po' più nel dettaglio, quindi niente ragazzi, è andata così, un pareggio, il Milan rimane in testa alla classifica, tre punti al comando, continuiamo così, non ci arrendiamo, la squadra comunque ha dato segnali di vita anche stasera, quindi non ci dobbiamo assolutamente preoccupare e niente, ci vediamo domani, alla prossima, sempre Forza Milan, ovunque e comunque, buonanotte a tutti, ciao!